Un infarto al volante ha stroncato questa mattina sulle 59 anni Vagno Nasato, titolare di un'officina meccanica in Piazzale Roma a Estrana. Erano circa le 9 quando Nasato, in preda un forte dolore al petto, ha accostato la macchina in via Baracca, evitando un incidente che avrebbe potuto coinvolgere altri veicoli. Il 59enne ha avuto anche la forza di scendere dall'auto e tentare di chiedere aiuto, perdendo poco dopo i sensi. Purtroppo l'infarto che l'ha colpito è stato fulminante. Inutile ogni tentativo di reanimarlo da parte dei paramedici del suo M118, arrivati in pochi minuti sul posto. Il meccanico era ormai privo di vita. Sul luogo della tragedia anche i carabinieri della stazione di Estrana. Nasato, che per la sua attività era molto noto in paese, lascia la moglie e due figli. I funerali saranno fissati nelle prossime ore.